E' Fabrizio Bregoli con il componimento Il nostro spazio e il vincitore della 56esima edizione del premio nazionale di poesia Borgognoni. Credo che la poesia abbia ancora la possibilità di aprirci a una serie di riflessioni e di considerazioni che vanno al di là appunto della società consumistica e legata all'utile e al necessario per farci riscoprire quella dimensione interiore ed esistenziale che dobbiamo assolutamente recuperare per restituirci alla nostra condizione più autentica di uomini. I partecipanti provengono da tutta Italia, da tutte le regioni e quindi un buon radicamento sul territorio sia qui che direi a livello nazionale. La menzione speciale invece è data al ricordo di una poesia scritta da una bambina, una cosa molto particolare anche che colpirà i sentimenti, sarebbe Nadia Nincione, la bambina morta nella strage di Via di Gergofili. Ci fece leggere questa poesia un giorno di festa, poi il giorno dopo il 24 a scuola la mise sui quaderni di classe e dopo tre giorni purtroppo è scoppiata la bomba. Quando noi abbiamo, ancora c'era processi in corso, nel 2001 abbiamo fondato l'associazione, lo scopo nostro principale era di cercare la verità e quindi la giustizia. Purtroppo sì, ci sono stati processi di Firenze e per fortuna, al contrario di tante strage, ancora non si sa chi è stato, perlomeno 16 il gastro li sono stati fatti. Però manca quelle menti raffinate che hanno indicato forse la strage di dove farla e perché venire in continente a mettere le bombe. Si sperava con la cattura di Messina Denaro che parlasse ma purtroppo è morto e non ci ha detto niente, per cui la verità vera non si saprà mai. Grazie.